L'ex sindaco di Licata, Angelo Graci, è indagato per favoreggiamento personale con l'aggravante dell'aver agevolato la mafia nell'ambito dell'inchiesta Alicon, che ha portato in carcere altre sei persone accusate di avere gestito la famiglia mafiosa di Licata, intrecciando anche rapporti con la politica cittadina e regionale. L'ex sindaco il 13 aprile del 2017 è stato intercettato nell'ovile di un altro presunto affiliato Giacomo Case nella conversazione ipotizzano i PM della DDA di Palermo, rivendica di avere fatto da tramite nei confronti dell'attuale deputato regionale Carmelo Pullara per trovare una sistemazione lavorativa ai figli di casa. L'ex sindaco nei giorni scorsi è stato interrogato dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido. Graci, difeso dagli avvocati Gianfranco Pilato e Giuseppe Glicerio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Graci poche ore dopo l'operazione fu ascoltato dai carabinieri in qualità di testimone. Qualche giorno dopo il suo status è cambiato e gli è stato notificato un avviso per rendere un interrogatorio in qualità di indagato. I PM sottolineano l'episodio, si legge nel provvedimento, offre una tangibile prova del radicato potere mafioso acquisito dalla famiglia di Licata, capace di tessere segreti rapporti con compiacenti esponenti politici. Il deputato regionale Carmelo Pullara, dal canto suo, ha sempre respinto le accuse parlando di trita carne mediatico e di rapporti del tutto irrilevanti sul piano penale. Al momento non si ha notizia di indagini a carico di Pullara. Intanto i giudici del Tribunale del Riesame di Palermo hanno rigettato la richiesta difensiva e confermato l'arresto del famacista Angelo Lauria, 45 anni finito in carcere nell'operazione antimafia Alicon, lo scorso 31 luglio con l'accusa di carabiniere DDA di Palermo di essere un affiliato della cosca di Licata. Il difensore, l'avvocato Giuseppe Di Peri, aveva chiesto al Tribunale della Libertà di annullare il provvedimento di arresto, ritenendo che il quadro indiziario fosse insussistente.